Salve a tutti e ben ritrovati a Diarte, è il quarto appuntamento con Marisa Milan, purtroppo quindi il penultimo, però insomma ci siamo dette un po' di cose Marisa, so benissimo che ce ne sono altre tante da dire, però è bello perché abbiamo cominciato a capire un po' più di te. Qui dietro abbiamo un'altra delle tue opere che si chiama? L'Araba Fenice. L'Araba Fenice, ecco, se tu ci spiegassi cosa vuol dire per te, perché anche il tuo dipingere quest'opera, L'Araba Fenice, mi dicevi, ha un significato, cioè il tuo approcciarti a un contenuto, a un codice come questo, ha un significato, qual è? Quest'opera, quando ho iniziato a metterla giù, diciamo che era un momento molto difficile, di un distacco familiare, dove io ho sofferto anche abbastanza. Noi sappiamo che l'Araba Fenice simbolizza la rinascita, la vita e quello che è, quindi ha una storia, insomma, non da poco, perché ha una lettura, come dicevi tu prima, di sentimenti molto forti, anche tristezze molto forti. E quindi è legata a un tuo desiderio di rinascita, no? Esattamente, ma non solo per me, anche, oltre che per me, andava quasi a pari passo con questa persona che mi ha suscitato anche ciò, eh? Andava proprio a pari passo. Non si può dire? No. È una persona che proprio è nella mia famiglia, quindi è qualcosa proprio di personale. Certo, certo. Però, come in tutte le mie opere, insomma, poi alla fine trionfa la voglia della rinascita, sempre e comunque. Mi ha dato un bel po' da fare quest'opera. Mi ha dato un bel po' da fare perché, perché, dietro anche della sofferenza, della tristezza, anche l'abbandono, o anche tutto quello che c'è dietro, alla fine sono riuscita comunque a creare questo movimento di trionfo verso l'alto. Perché va verso l'alto, il movimento va verso l'alto. Ti ha ostacolato molto, cioè hai incontrato diversi ostacoli? Li ho trovati, soprattutto inizialmente, dopo quando io inizio a trovare la venatura giusta, nel, nel, però per poter trovare la venatura giusta, nel poter portare le mie pennellate, sempre io devo stare in un certo modo. Quindi, in automatico, con l'evoluzione della mia opera, c'è prima di tutto un'evoluzione dentro di me. Mi impegno molto, affinché ciò accada. Quanto tempo ti richiede un quadro, solitamente? Guarda, ti dico la sincera verità, può essere questo forse due mesi, due mesi e mezzo. Guardo, anche perché io continuo a guardarlo, a riguardarlo, ci aggiungo delle pennellate, che magari non necessariamente a chi le guarda, ovviamente, si può accorcire. Esattamente, però io lo guardo, lo riguardo, faccio dei piccoli dettagli, ci aggiungo magari una punta di giallo in un punto, dove secondo me li manca. Vado proprio a osservare, poi alla fine anche nei dettagli tutto. C'è un disegno prima? Non sempre, non sempre, no, non sempre. In questo caso non sempre. Qui ero partita da un cuore, tu pensa. Ora che mi stai parlando di questo, ero partita dipingendo un cuore, che poi io ho trasformato. O si è trasformato, come si è trasformato? Sì, l'ho trasformato perché l'ho allargato, perché il semplice cuore è poco. Il cuore è che ritorniamo nei sentimenti, il cuore è quello che soffre, no? Il tuo cuore si è trasformato? Sì, esattamente, il mio cuore in questo caso è rinato. Quindi in un periodo di sofferenza c'è stata la rinascita. C'è stata la rinascita. Sì, c'è stato il trionfo comunque. Vedi che c'è sempre e comunque, sebbene molto spesso può essere errata, perché molto spesso l'artista non sempre pensa davvero tutto quello che sta facendo. Cioè le cose nascono così, un po' per caso, un po' perché c'è un progetto. Però poi si guarda il quadro, passa moltissimo tempo e ci si rende conto di cose che prima non avevi notato. Gli dai una lettura che prima non gli avevi dato, no? Sì. E quindi come ti approcci ai tuoi quadri, a tutti quei quadri che hai fatto? Quindi alle tue opere passate? Le rivedi ogni tanto? Sì, le rivedo. Fanno parte tutte di un mio vissuto quotidiano, di un vissuto come tutti, credo, ma in questo caso assolutamente le riguardo. Mi rivedo ovviamente in tutte le mie opere. C'è un percorso insomma abbastanza lungo perché... Certo. E comunque c'è da raccontare, insomma, c'è da raccontare. Hai un luogo preciso, se c'è, in cui dipingi? Sì, c'è una stanza dove io mi immergo con le mie opere, certo, ma sono anche quando ho terminato di lavorare, me le vado a riguardare. Tu fai conto che io tante volte, mentre mi metto a preparare la cena, prendo, siccome questa stanza non è distante da dove è la mia cucina, prendo e me la vado a riguardare. Magari colgo qualcosa che un attimo prima non avevo colto. E magari mi compare un colore che magari devo aggiungere in un angolo che prima non mi era accorta. Cioè sono continuamente con la testa nel mio lavoro. È come se io fossi, non come se io fossi. Io sono costantemente a contatto con me stessa. E quindi per me è anche facile prendermi dei momenti anche durante la giornata, anche quando ho messo giù il lavoro, me lo vado a riguardare. Non è difficile entrare in contatto col mio lavoro perché io sono costantemente alla presenza di me stessa. Interessantissima questa cosa. Tu mi hai detto anche un'altra cosa. Mi hai detto che gran parte della mia predisposizione artistica, gran parte dei contenuti dei miei quadri devono molto alla cultura greca di mia madre. perché in realtà è lì che ho trovato la chiave di lettura della mia arte. È lì che ho trovato il punto, l'input. E io ho riflettuto su questa cosa che mi hai detto. perché tu trovi il filo rosso dei tuoi quadri in una spiritualità che si conserva all'interno della cultura greca. All'interno di un background culturale che tu hai alle spalle che si rifà artisticamente parlando ha qualità che vengono fuori grazie all'armonia. Cioè l'arte greca si basa su valori di proporzione, si basa sulle qualità come la proporzione, la bellezza sta nella proporzione nell'arte greca, sta solo nella proporzione, nell'imitazione della natura, nella proporzione tra le parti, nella esatta scomposizione anche matematica della tela. Quindi, cosa che nell'arte di oggi, nell'arte contemporanea, non c'è. Cioè, anzi, c'è poco comunque. È sovvertita, cioè i canoni di bellezza si sono sovvertiti, ma al di là della bellezza, i canoni artistici, i valori artistici, le qualità artistiche si sono sovvertite. L'arte non sta più nelle proporzioni, anzi, le distorce, ma questo con le prime avanguardie, già con le avanguardie nel Novecento, l'arte sovverte le proporzioni. Picasso scompone lo spazio. Insomma, e adesso ancora di più, perché i segni sono quasi nulli. come mai tu, artista contemporanea che vive l'arte di oggi, quindi a noi contemporanea, riprendi, ti affili ad un background lontano invece dai tuoi contemporanei? Sei bene vicino alla tua cultura mediterranea, che è quella greca, poi praticamente. Ma non c'è un come mai, non c'è una spiegazione, come ho detto anche nelle altre puntate, cioè io sono questa, questa è la mia essenza, la porto nella tela, la porto in questo modo, mi porto in tutte le sue sfumature, sfaccettature, con sentimenti, emozioni, non c'è un come mai. Mi porto allo stato puro? Qui adesso vediamo uno dei tuoi, uno dei tuoi quadri, come si chiama questo quadro? Elemento terra. Elemento terra. Questo è l'elemento terra. Questo è uno degli elementi che tu hai. Sì, sì. Questo è l'elemento terra. Tu perché hai deciso, hai scelto così, ma ritorno ad un discorso strettamente iconografico, di dipingere i quattro elementi? E perché noi siamo dentro i quattro elementi, io sono all'interno come tutti noi, siamo all'interno dei quattro elementi. Questo invece? Questo si chiama l'elemento aria. Ti dirò che anche con questo qui ho fatto un po' di sattica. Mi dicevi, ho avuto difficoltà a rendere l'aria. Eh sì, perché anche l'aria non si vede. Che colore ha l'aria? Non ce l'ha. Tu se pensi all'elemento acqua, ha un colore, no? Anche la terra, il fuoco. Anche la terra, certo, certo. E come hai fatto a trovare quella lettura? Come ho fatto? È il discorso che ti ho già detto più volte. È difficile da spiegare come faccio, perché anche l'elemento aria non è possibile disegnarlo. Se uno lo disegna, cosa fa? Rappresenta il vento, no? Ora può fare il movimento del vento, che può andare verso l'alto o lo può simbologiare con un soffio. Però siccome la mia, in questo caso, è un'arte informale, sono riuscita, entrando dentro l'elemento aria, a creare la sensazione dell'aria. Tu hai intitolato un tuo quadro l'inquietudine. Oh, è stato uno dei miei primi, non dei miei primi, è stato abbastanza vecchiotto quel quadro lì, è vero. Lì c'è stato un momento di grande inquietudine. Credo che sia forse uno dei rari quadri che io ho rappresentato in quel modo. forse l'unico. Cos'è per te l'inquietudine? Quando tu sei inquieta, nella maggior parte delle volte? Ti senti inquieta? Ora come ora non mi sento particolarmente inquieta. Perché? Perché c'è stato un percorso con me stessa. Forse posso avere dei frammenti che durano il tempo che trovano. Quando invece ho rappresentato l'opera L'inquietudine, lì c'è stato un vero periodo di inquietudine. Perché diciamo che prima di arrivare a uno stato di star bene ho dovuto passare un momento di inquietudine abbastanza forte. Sono uno come fa a riconoscere il star bene? Certo. Come fa a capire la differenza? Come fa a capire la differenza? Essere sereno, essere felice invece essere inquieto. Esattamente. Diciamo che sono i due estremi, no? E artisticamente invece, secondo te, ti senti più produttiva quando sei serena o quando invece sei inquieta? Perché molti si sfogano così tanto nella propria arte che producono le cose migliori proprio in momenti peggiori della loro vita. io sono sempre produttiva quando sto abbastanza bene perché col discorso che ti ho detto prima che io mando un messaggio sono sempre comunque produttiva quando sto bene. Questo è un lavoro che io faccio costantemente e quotidianamente con me stessa perché quando una persona guarda la mia opera desidero desidero con tutto il cuore che gli arrivi anche a questa persona una sensazione e un'energia pulita di un'energia positiva sempre e comunque. Quindi il lavoro costante che io faccio su di me porta dei risultati che io debba fare delle opere sempre e comunque positive ma in uno stato di benessere. come ti ho detto altre volte quando non ho particolarmente un pensiero positivo perché può capitare è umano ecco cosa succede quando non hai un pensiero positivo? Ci lavoro non dipingi? No o lo trasformi? Lo trasformo in pensiero positivo? Lo trasformo ed è terapeutico al mille per mille su di me. Quindi non può e sarebbe interessante ritornare su questa cosa facciamo che ci ci torniamo proprio domani d'accordo sullo stato di inquietudine nella tua operazione artistica io chiudo oggi qui ma domani mi farebbe piacere ritornarci con te per oggi ti saluto Marisa saluto il nostro pubblico a casa e vi rimando all'ultimo appuntamento con Marisa Milan domani ciao a tutti